ci vorrebbe una fiaschetta eh pa? te la devi fare la fiaschetta? no 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 io sono già stufo di stare qua ma queste cose a me mi piacciono queste cose particolari ma zappettare e non una nottura di palle ci vorrebbe un metro Valentino prova a vedere lì in mezzo si riesce a trovarla senza farti male un metro nella busta delle scarpe ci dovrebbe essere un metro guarda dove metti le mani dobbiamo andare 40 centini di profondità addirittura si lo trovi bravo c'era proprio un metro quello di metà ma va bene anche quello dai va bene anche quello però prova a misurare la profondità la profondità 40 40 ma come tavolo la faccio? beh lì sta l'intelligente che sei intelligente ci deve arrivare toh lascia prendere quello toh Jenny no vai prendi le misure Vale vai l'ingegnere da cantiere al centro vai ma tienne questi guardi no 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 questi non ce la fai Jenny amore guarda di qua Jenny guarda lo zio baby shot poi lo vuole eh ce l'abbiamo ce l'abbiamo ci abbiamo i telefoni quasi 40 quasi aspetta che zappetta ancora un po' beh nonno come procede qua l'impianto? in grande è una schifezza la terra è una schifezza però sembrava a fare le buche eh le buche si ma sai perché? eh perché facevo l'imparcatore con mio padre quando facevano eh le imparcatore per andare sulle casa allora questa qua è tutta esperienza l'esperienza che stai rimettendo in pratica no quello lì è pericolosissimo lascia facciamo metterlo vale quello lì taglia appoggiolo sotto tavolo io dopo te li faccio fare tutte al suo tempo anche Jenny ma sei no no ehi ma con quel coso in mano con cosa da vicino mi sembra il caso eh Valentina vieni qua guarda come fa la tecnica al nonno come scava bene per terra che fa la buca fatta bene Jenny ehi guarda qua ciao piccola ehi tu ciao mi dai un bacino Jenny togli questa terra wow dai metti dentro scavi archeologici sì ma è a voglia guarda è 40 ancora un po' dai amore ciao è la e adesso guarda cosa dobbiamo fare Valentino ciao meraviglia ma sei una meraviglia adesso vai a prendere quando è la tua pianta vai prende la tua pianta questo lascialo qua guarda quanto catarrino aspetta aspetta vieni giovane vieni giovane questo è quello di ieri che mi chiamano per quella roba lì vabbè vabbè dammela a me non me la passava a me la sistema mi richiama dalla pasta faccio la testa qui c'è un fazzoletto oh metti bene mettela qui a fianco metterla qui a fianco guarda adesso riprendi il nonno vieni qua guarda vale metti qua prendi il nonno mentre la disfa che metto il nonno adesso gli tira via ma li fai il video con il video? eh sì facciamo il video vieni qua Jenny che adesso fanno l'operazione di fottatura io non l'ho mai fatta valentino eccola qua eccola qua guarda la bella la vedi? fammi metterla a me eh brava sì aspetta mentira